Stamattina sono scese in piazza le magliette bianche ai cittadini che chiedono il risanamento delle aree più inquinate d'Italia. Per l'Abruzzo è stato scelto come simbolo il sito di Piano d'Orta, nel sito nazionale di bonifica di bussi, pesantemente inquinato da piombo e arsenico, molto vicini tra l'altro alle abitazioni. Dopo lunghe vicissitudini e ritardi, ci sono state due ordinanze della provincia di Pescara nel 2015 e nel 2018 che individuano in Edison il responsabile che dovrà attuare le bonifiche. Nel frattempo però sono stati trovati rifiuti, in particolare ceneri di pirite, che oggi in molti casi sono classificati dall'Arta come rifiuti speciali pericolosi in diverse aree anche esterne dall'attuale perimetro del sito nazionale di bonifica. Nel maggio del 2017 poi una segnalazione della stazione ornitologica abruzzese ha fatto partire l'iter di riperimetrazione del sito. Dopo due anni, denunciano le associazioni ambientaliste, però non è ancora pronto il decreto. In questa manifestazione a livello nazionale, i cittadini chiedono a governo, Parlamento e Regioni procedimenti amministrativi e penali rapidi ed efficaci, con un cronoprogramma preciso e non derogabile. Inoltre si chiede il rispetto del principio chi inquina paga affinché siano finanziate le bonifiche attraverso le aziende colpevoli. Il sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo, presente all'iniziativa di oggi, ha evidenziato l'importanza di avviare uno studio epidemiologico approfondito anche in considerazione dei risultati preliminari dello studio Sentieri dell'Istituto Superiore di Sanità. Tra le richieste anche l'introduzione della VIS, la valutazione di impatto sanitario, e della Vias, la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario per ogni procedura di autorizzazione ambientale. Oltre a un forte inasprimento delle pene per i reati ambientali, l'abrogazione delle norme scosciatoia introdotte dai precedenti governi che facilitano l'elusione della via e delle bonifiche.